eccoci qua buonasera a tutti ben arrivati a tutti vedo che state ancora entrando è bello molto 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 bello questo fatto che siete in tanti e questa è l'ultima di sette zoom di sette appuntamenti che abbiamo avuto con vari bramini nell'arco di sette mesi e mi sembra incredibile che siamo già arrivati a giugno e siamo già arrivati all'ultimo di questi sette e di sentirsi bene abbiamo fatto sentirsi bene col cibo sentirsi bene al lavoro se vissi bene in famiglia sentirsi bene con se stessi sentirsi bene sotto tanti aspetti e da quello che mi è stato detto da quello che mi avete raccontato sono stati zoom utili e questa è la cosa che a me fa veramente più piacere in assoluto e stasera facciamo proprio la conclusione molto doverosa e anche molto penso proprio sì indirizzata verso il bello indirizzata verso il giusto che è quella di sentirsi bene con dio e quindi abbiamo qui wendy buonasera che ci parlerà di sentirsi bene appunto con dio allora wendy io ti ho mi sono preparata sette domande neanche a farla apposta perché per me il numero 7 un set è un numero veramente importante l'avrete capito e in queste sette domande andiamo un po esplorare quello che è il tuo le tue riflessioni il tuo pensiero su dio e quello che è anche la tua fede il tuo credo di dio chiaramente e la prima domanda che ti faccio è qual è il motivo importante dell'avere una relazione un rapporto con dio perché lo cerchiamo perché da sempre siamo indirizzati a cercare una relazione con dio o comunque a cercare di conoscerlo perché abbiamo questa esigenza perché è così importante questo motivo per l'essere umano beh non so se lo è devo dire cioè io non è che ero prima di conoscere la brama kumaris che di fatti mi ha parlato di dio non è che io ero tanto diciamo incuriosito cioè sapevo che c'era ci credevo ma diciamo che avevo l'impressione che non si occupava molto di quello che stavo facendo io e ognuno faceva per conto suo cioè insomma avevo un po quell'impressione lì ovviamente la risposta a questa domanda cioè la potrei fare molto più diciamo positivamente molto più dinamicamente da dal momento che posso capire chi è dio cosa è dio cosa fa e in che modo era utile e io tutto questo non mi veniva assolutamente chiaro che utilità poteva avere e certo anche se ci credevo cioè non avevo nessun non avevo nessun oggetto cioè sto stato dalle suore insomma parlavano di dio e poi è solo dopo di che che ho realizzato che per loro quando parlavano del signore parlavano di cristo e non di dio e lì bisogna vedere insomma chi intendiamo quando parliamo di dio beh però diciamo che c'è una ricerca tabica da sempre l'essere umano cerca questo contatto nella colla devozione con canti con balli con riti con sacrifici con qualsiasi cosa poteva riuscire a inventarsi l'essere umano ha cercato sempre di trovare un modo per comunicare per collegarsi per trovare un modo per insomma per rapportarsi proprio con dio si rapportarsi diciamo a un potere superiore esatto qualcuno di più potenti di me che potrebbe al limite essere utile per fare delle cose che io non riesco a fare insomma ma dipende dalla cultura no cioè in cultura c'è un altro nome per questo questo potere superiore cioè hanno hanno un nome diverso no certo con un po di varianti insomma ho trovato quando ho fatto per esempio delle traduzioni per un indiano di america un pelerosso dalla dei hopi allora loro lo chiamano want and conquer una cosa del genere insomma c'è un altro nome no e lì ci siamo trovati più o meno sulla stessa onda ma diciamo che lui aveva una visione di dio che si avvicinava molto a quello che io potevo avere in quanto brava cumalis che poi hai scoperto oppure era era già eri già bramina ma io quando l'ho tradotto ero bramino da due mesi all'inizio all'inizio inizio proprio all'inizio inizio e questo era un lavoro che facevo cioè l'ho tradotto per un weekend dove ho tradotto sei ore al giorno insomma la sua seduto accanto a lui e cioè interessantissimo infatti la loro cultura tutto quello che è spiritualità è molto interessante a certo indiani d'america sì sì i cosiddetti pelli rossa sono veramente un popolo che poi tra l'altro abbastanza diverso uno dall'altro ma comunque molto molto interessante con profondissima con una profondissima cultura secondo me poco poco conosciuta e poco tenuta in considerazione ma se soltanto ci si avvicina ci si rende conto che che popoli importanti erano veramente effettivamente e per quanto ti riguarda sono molto connessi ah sì patrizia giusto sono molto connessi sono molto connessi sono molto connessi con tutti quello che li circonda con la terra con l'aria col vento con le stelle col con con il cosmo e sono proprio connessi con qualche cosa di superiore con qualche con l'aldilà sì è verissimo sì hai detto proprio la parola giusta la connessione a 360 gradi e tu lo ritieni importante la tua relazione con dio chiaramente allora da bambina ho avuto forse le prime esperienze quando stavo a scuola dalle suore e che ogni mattina si andava a messa alle sette e mezza si andava a messa e io avevo sette anni e mezza otto anni insomma così e non essendo cattolica cioè io dopo un po' mi son detto ma che noia sta roba cioè perché ogni mattina si recitava identicamente le stesse cose cioè è chiaro che per me non era complicato ricordarmi le risposte della della messa in latino insomma cioè e mi dicevo a volte mi son detto ma loro si rivolgono a dio perché non si può parlare quindi dentro di me dice ma non t'a noi lì su insomma non si può avere una una comunicazione un attimo più dinamica parlare di qualche cosa di diverso e e quando mi rivolgevo così quindi dentro di me a dio sentivo una risposta e che mi sentivo che decisamente si si divertiva tantissimo di fatti non ho mai parlato a nessuno delle suore o qualche cosa del genere di quello che io stavo facendo a messa ma avevo come diciamo sviluppato una una relazione spontaneo come come fanno i bambini che hanno degli amici invisibili io ero figlia unica abitavo in un paese straniero quindi è chiaro che giocavo da sola sempre e mi ero diciamo organizzata una un'amica invisibile che era una decisamente una femmina cioè non so come non aveva nome non sono andata a cercare i nomi non era importante ma per me dio poteva avere effettivamente questa forma e pensando al mio pensiero e al modo in cui io mi rivolgevo non era il cristo a chi stavo parlando assolutamente era a dio cioè l'incorporio cioè dio il padre molto chiaramente e io avevo anche nei corridoi cioè poteva avere una per dire cioè la chiesa stava la cappella cioè era abbastanza grande stava al secondo piano allora cioè noi dovevamo salire la mattina e quindi io gli dicevo se vuoi che vado a chiesa mi devi spingere per le scale ed è come se io sentisse che ci fosse dietro alle mie spalle qualcuno che spingesse era molto divertente e quindi ha iniziato così poi io quando ho lasciato la scuola ovviamente ho dimenticato questo e pensavo che aveva veramente a che fare con la mia infanzia però quando sono arrivata nella nella conoscenza dai brava kumaris mi hanno spiegato la meditazione come si deve meditare a che cosa si deve pensare per meditare c'è trovavo tutto questo abbastanza complicato e non non mi veniva facilmente poi ad un certo punto ho avuto un'esperienza e la vibrazione era la stessa di quando era bambina e mi è venuto spontaneo di m ma sei te allora e la risposta tipico come io lo sentivo è ma chi vuoi che sia a te a te solo così ti poteva rispondere così a meno ma chi vuoi che sia quindi le cose hanno iniziato così il mio amico personale con dio ha iniziato ma io sai io ho sempre considerato che esisteva però io c'avevo i problemi miei lui ci aveva certamente da fare cioè non è che avevo visto il collegamento in nessun modo è chiaro e come e come fai a capire qua adesso quindi rimane non non tornando all'infanzia ma rimanendo proprio a ad averlo incontrato poi all'età adulta aver rincontrato questa questa percezione no questo chi vuoi che sia come fai a capire quando ti quando ti ascolta o come fai a capire se tu lo lo stai ascoltando beh cioè io ovviamente facendo parte della brama comaris ho accesso a dei dei testi che provengono da lui quindi ho molto più chiaramente un qualche cosa in mano di scritto che io posso leggere e devo dire che lo stimolo che questo mi dà non solo per quello che c'è scritto ma il significato l'utilizzo di questo cioè in che modo questo può essere utile per la mia vita ma anche dei pensieri alla quale io non avrei mai pensato se io non fossi stata stimolata da questi testi no allora se io ascolto bene e entro in una relazione con lui e in quel momento lì mi rendo conto che la le idee che mi vengono sono o la soluzione ai problemi che io posso pormi sono sorprendenti ecco cioè ha un effetto enorme sul mio intelletto e tu poi tra l'altro stai parlando del murli quindi ecco un murli quindi le letture che facciamo tutte le mattine quindi questa capacità di ascoltare questa capacità di ascolto da tutte e due la parte e perché tu apri una perché tu hai un canale di relazione sì 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 cioè ovviamente se hai una relazione con qualcuno che ti sta parlando ti sta scrivendo c'hai qualche cosa sulla quale basare i tuoi pensieri ti ricordi ah ma questo ha detto così chissà cosa significa se aggiungo anche quello che ha detto la settimana scorsa vediamo un po' un attimo cosa ne esce fuori e lì ritrovo tantissime soluzioni alla mia vita ma è chiaro che bisogna utilizzare la conoscenza quello che io ricevo no chiaro così come l'importanza anche di ammettere di non aver capito qualcosa e aspettare di comprenderlo che questo secondo me certamente cioè il rapporto che ho passa veramente attraverso il murli attraverso questi scritti no perché mi rendo conto che quando c'ho una domanda invece di stare lì a veramente cercare di capire ho solo veramente bisogno di aspettare un paio di giorni e mi arrivano delle chiavi che aprono una un'altra realizzazione e quindi posso risolvere o posso avere un fare un passo in avanti perché ho realizzato qualche cosa e sempre c'è sempre un'aggiunta a qualche cosa che è stata detta prima quindi insomma c'è c'è un'informazione che mi arriva arrivano le risposte sì sì quindi chi è dio a karma si rincarna chi è il dio nostro cioè chi è il dio di wendy il dio di wendy e il dio di tutti quanti ok cioè bisogna vedere cioè di chi stiamo parlando chi è dio perché tanti considerano dio qualcuno che ha già preso un corpo dio è l'incorporio non ha mai preso un corpo non è che ha mai camminato sulla terra ecco bisogna essere molto chiaro quindi è un dio che è eternamente così sempre come è stato e sempre com'è non cambia non si trasforma non muore non può morire è dio creatore e dio più che altro in questo momento il duo dio purificatore cioè veramente serve a purificare tutto quello che noi viviamo tutto quello che noi sentiamo cioè rimette in regola tutto quello che noi possiamo fare basta ascoltare chiaro quindi il fatto che non si rincarna il fatto che sia eternamente senza corpo senza corpo non può sviluppare karma quindi lui non ha azioni da o pensieri o situazioni o fatti che gli creano karma no effettivamente lui non ha karma e noi possiamo creare karma con lui se ci comportiamo in tal modo da aiutare il suo lavoro di purificazione perché lì entra veramente il suo ruolo di creatore come questo avviene cioè la gente pensa ovviamente che dio a un certo punto decide di creare e crea il il mondo la terra eccetera dal nulla ma ci sono delle dio è una delle cose che ha sempre esistito ma anche la materia è eterna non è che dio va a creare la terra e gli alberi e i fiori e tutto quanto e poi noi no le tre cose che sono sempre esistite e esisteranno sempre sono dio la materia stessa e inclusi tutti i pianeti eccetera e poi le anime umane l'anima allora c'è questa connessione con le anime e la terra dove la terra e il mondo ci offre un corpo e noi diventiamo esseri umani insieme a un corpo e noi siamo queste due energie insieme e dio ovviamente quando ha contatto con noi ha contatto con l'anima e non particolarmente col corpo infatti lui karma col corpo non ce l'ha quindi è tutto il mondo va avanti con una connessione fra questi tre elementi che sono eterne allora la materia conosce la legge dell'entropia cioè nel senso che è molto carica quando noi siamo molto cariche noi abbiamo un effetto sulla materia quando noi degradiamo la materia si degrada e difatti basta guardare tutto quello che è l'ecologia l'ambiente eccetera è molto degradato ormai quello che avviene è la purificazione di fatti avviene insieme a dio che purifica quello che c'è ma purifica attraverso l'anima e l'anima ha contatto con la materia quindi se l'anima si purifica la terra e la materia si purifica e il mondo ritorna a uno stato di perfezione di carica energetica e infatti è semplicemente se vogliamo guardare veramente una natura che noi tutti conosciamo diciamo che l'eternità si svolge in ritmi primavera estate autunno inverno primavera estate autunno inverno è come una ruota se vogliamo che cammina così e noi sappiamo che alla fine dell'inverno arriva la primavera a livello dell'eternità umana cioè non non ci rendiamo conto che di fatti è così e arriviamo in una situazione cioè se vi faccio immaginare o dire in che stagione ci ritroviamo in questo momento probabilmente tu ti direste inverno effettivamente noi siamo in questo momento in inverno dove veramente di bello non c'è più nulla cioè non cresce più niente l'albero perde le foglie le ha perse già l'autunno è stichita l'albero cioè l'unica cosa che ci dimentichiamo è che sotto terra ci sono i semi che si sono caduti per terra e che aspettano l'energia giusta per crescere allora quello che succede dipende tutto da noi dagli esseri umani e il seme veramente quello che va purificato è l'anima umana dal momento che l'anima umana perde per esempio esempio grosso la sua il suo egoismo un attimo più altruista un attimo più cooperativo con gli altri la situazione cambia tantissimo e questo avviene con l'avvicinamento tra dio e le anime umane è un po' come durante la stagione della fine dell'inverno quando arriva la primavera il sole visto la terra che si muove la terra il sole si avvicina e c'è più calore cioè più luce in quel momento lì quello che sono i semi crescono e noi vediamo la natura che si riprende e noi facciamo se vogliamo a livello con dio una stessa uno stesso gesto con l'avvicinamento dell'energia di dio che purifica che non crea purifica quello che noi siamo sempre stati ma al nostro livello maggiore massima quindi torniamo ad essere capaci di sostenere la materia e rendere la materia pura e perfetta quindi tutto quello che potrebbe essere negatività scompare e il mondo torna ad essere perfetto e la natura torna ad essere perfetto e gli animali torna ad essere perfetto e noi torniamo perdiamo totalmente la nostra rabbia per esempio diventa un mondo pacifico e amorevole ecco e questo avviene ad ogni primavera noi pensiamo diciamo che pensiamo che il mondo ha un inizio una linea dritta poi una fine e cade tutto e finisce no difatti è una ruota e come la natura cioè che noi conosciamo ovviamente in un anno vediamo tutto e ce lo ricordiamo lì è molto più lungo e quindi non ce lo ricordiamo e non lo sappiamo più ma così è ottimo penso che hai fatto un discorso estremamente comprensibile a tutti e tra l'altro quello che mi fa tanto piacere che penso che venga fuori molto chiaramente è il fatto che mi senti? sì ok il fatto che Dio non fa tutto lui come invece buona parte di noi a noi è stato insegnato che il cielo la terra tutto quanto lo crea lui no sono tre energie completamente diverse quindi quella delle anime quella di Dio anima quindi Dio che è un punto di luce un'anima e quello della materia che non si distrugge mai perché si rigenera si rigenera si rigenera ogni volta e questo è veramente bellissimo secondo me perché è una cosa che ci dà l'opportunità di cambiare una visione che è molto inculcata dentro la nostra cultura ma questo è un peccato ma fa parte anche di quello che di fatti la religione insegna se voglia dove c'è questa dipendenza e Dio quando è successo questo terremoto dove sono morti tante persone ma tu cosa stavi facendo perché non hai impedito il terremoto ma il terremoto è semplicemente un esempio della materia cioè della crosta terrena che si libera da vibrazioni negative per rimettersi a posto quindi deve assolutamente fare questo gesto se vogliamo si deve trasformare quindi è una cosa positiva piuttosto che negativa l'unica cosa è che visto che c'è chi ci rimette la pelle per dire la cosa onestamente purtroppo pensiamo che sia negativo cioè nell'andamento del mondo che si deve purificare tutto questo deve accadere deve accadere certo ma come facendo un esempio di quello che può essere a livello di pianeti di cosmo di universo quando una supernova si ricrea e perché praticamente una stella esplode e crea un'altra un'altra vita un altro pianeta eccetera e l'esplosione è terribile è enorme è devastante insomma Muriel scrive mi piace assai che Wendy parli di ritmo per definire le diverse età infatti sì sì è proprio un ritmo ha proprio ragione è un ritmo e quello che è bello è che noi siamo infatti coinvolti in questo perché dal momento che noi siamo consapevoli di quello che sta succedendo è che in a livello anima io sono eterna cioè faccio parte di una di queste tre categorie dio la materia e le anime umane cioè io non è che scompaio quindi la morte è semplicemente un cambiamento di vestito per andare avanti in un'avventura nuova certo quindi io diciamo che se muoio in terremoto non è cambiato un enorme granché nella mia eternità mi permette un'altra incarnazione un'altra avventura fare sempre la stessa cosa non è molto interessante quindi cioè è un dinamismo molto più le cose non si fermano alla morte certo e questo purtroppo crea pensare che sia così cioè crea molta paura quando invece cioè noi anzi ci pensavo proprio oggi come nel nostro vissuto noi possiamo renderci conto di abitudini che noi abbiamo che sono sintomatici di esperienze anteriori allora io vi do un esempio perché ci ho pensato proprio oggi a scuola dalle suore una volta una suora ovviamente d'inverno ci ha se beccato un'influenza è morta vabbè allora dalle suore cioè ovviamente nel cristianesimo tu vai a vedere la morta lì fai una benedizione fai una preghiera e la saluti insomma allora questo non fa parte della cultura inglese allora io quando sono tornata a casa quella sera diciamo a tavola mia madre allora cosa hai fatto oggi di bello allora io gli dico ah ma siamo andati a vedere la sorella morta insomma cioè e l'ho detto con così tanto entusiasmo mia madre che non aveva mai visto una salva ma gli sono drizzati i capelli sulla testa insomma e cosa hanno fatto la figlia insomma per dire però mia madre non capiva la mia gioia ecco allora la mia gioia era certamente perché io pensavo vedeva sta suore e dico guarda cioè hai vinto la reazione che avevo a sette anni a nove ma nove anni più o meno nove dieci anni cioè la mia reazione era dovuto a un'esperienza di vita precedente perché se no non si spiega quindi io ero lì dicevo ma tu hai vinta cioè non c'è professore medico chirurgo che tenga che possa adesso impedire quello che ti è successo e trovavo che era la vittoria solo che se la vai a guardare questo me l'hanno detto dopo che io una vita l'ho vissuta in quanto gravamente handicappata e io ho i sanska come si dice cioè delle abitudini me l'hanno detto varie persone vivo intorno al mio letto e questo è un'abitudine e mi sono portata vita dopo vita quindi è chiaro cioè avendo questa vita pesante probabilmente cioè non non vedevo l'ora di morire per incominciare una vita nuova e la morte mi ha diciamo ovviamente mi ha fatto aspettare quindi ecco come mai io in una nuova vita vedo una morte e dice guarda che brava che sei riuscita a fare insomma cioè per dire questo è un esempio di come le nostre vite precedenti influiscono sul nostro atteggiamento presente e non ce ne rendiamo neanche conto perché vedi tutto quello che tu stai raccontando è una tua presa di coscienza che noi non tutti noi riusciamo a fare il fatto che ci sono certe caratteristiche in noi che ci portiamo dietro ci portiamo addosso e non ci rendiamo neanche conto di averle tu puoi tu per te può essere quella appunto di non solo non aver paura della morte e non vedere la morte come qualche cosa di negativo ma anzi un successo come l'hai chiamato nei riguardi della suora è stranissimo eh sì per altri ci sono altre caratteristiche che effettivamente abbiamo e la gente non se ne accorge non ci fa caso no ma questo per dire che ci sono altre cose insomma che uno può notare per esempio cioè quando da da giove io ho studiato danza ho fatto la ballerina professionalmente ed era divertente quando iniziava un nuovo anno che arrivavano tutte le bambine per fare la scuola di danza e dopo un paio di settimane che si erano diciamo abituati alla scuola tu vedevi di colpo c'era una che stava così e che si muoveva tu vedevi che lei aveva già danzato non c'è dubbio nei bambini credo che sia ancora fino a circa sette anni è molto evidente ancora è molto evidente cioè di fatti l'insegnante di danza rideva di questo cioè noi viviamo con certe tendenze che sono già molto sviluppate poi il bambino particolarmente dotato questi bambini prodigi per esempio sono semplicemente come Mozart semplicemente i bambini che in un'altra vita hanno sviluppato esattamente quella fare lì e Mozart a 4-5 anni si permetteva di concorre le cose che se tu non conosci tutta la diciamo la grammatica il punto a punto penso che si chiami cioè non lo puoi fare sicuro delle regole che lui non aveva mai imparato capisci? non in questa vita intendiamoci cioè noi ci portiamo appresso un bagaglio o delle ricchezze se vogliamo che sono assolutamente sorprendenti e ognuno di noi è un bagaglio favoloso di esperienze precedenti e ci portiamo appresso anche o ci porteremo appresso anche un bagaglio assolutamente sorprendente di questa vita lei scrive avere questa concezione della morte le dà il valore reale della nuova vita della nuova, della trasformazione esatto sì sì è proprio così senti Wendy Dio ha nemici e sì se sì sono potenti i suoi nemici? Dio non ha nemici e al di sopra cioè tu hai un nemico solo se lo guardi in faccia e dici che sei un nemico Dio non ha nessun concetto di una roba del genere Wendy guarda abbiamo appena parlato del fatto che esiste la rincarnazione che io ci scommettevo che mi avresti risposto così cioè proprio quando hai cominciato a rispondermi io l'ho già visto questa immagine, questo momento proprio esattamente così però ci sono delle cose che creano a noi creano difficoltà nel prendere contatto con Dio cioè che per noi sono delle difficoltà per noi sì noi abbiamo dei problemi noi abbiamo dei problemi, esatto io no no ok quindi quali possono essere dei problemi proprio chiari per non riuscire ad avere contatto con Dio non riuscire ad essere appunto sai quando raccontavi prima della bambina che parla con Dio e poi a un certo punto però con Dio non ci riesci più a parlare non riesci più a prendere il contatto con lui ma penso che ha molto a che fare con lo stato di genuinità il stato di purezza dell'anima perché Dio è disposto a parlare con tutti e difatti è sempre disponibile, non c'è dubbio ma siamo noi a non sapere comunicare con lui cioè è un po' come qualche cosa che non si ascende la comunicazione non si accende e questo perché noi abbiamo una carica negativa di energia negativa che non corrisponde all'energia di Dio e questo esclude la comunicazione più si è puri più c'è la possibilità di comunicare con Dio e ovviamente ognuno che mette in pratica diciamo perché ecco perché se vogliamo veramente prendere beneficio di un rapporto con Dio Dio ce lo offre però c'è un processo di purificazione che bisogna anche accettare cioè non è che puoi avere una comunicazione immediata con Dio ma fare cavoli tuoi quando vanno contro la natura spirituale di quello che è Dio devi adeguare la tua natura a Lui cioè e non Lui a te anche perché questo cercare di adeguare Dio a tutto quello che ci circonda piuttosto che a noi stessi ci ha creato la più grande confusione in assoluto che poi è Dio onnipresente quindi Dio sono io Dio sei tu Dio sono i fiori Dio è il computer Dio è dappertutto come spesso sentiamo dire è fatto dei ciotoli e delle pietre insomma l'abbiamo messo addirittura Dio quindi questo non ci ha portato poi alla fine un beneficio di collegamento e di contatto migliore no anzi ci ha portato solo a una gran confusione anzi diciamo che quando c'è una di fatti avere veramente un contatto una comunicazione con Dio richiede una siamo noi a limitarci non Lui Lui non ci rifiuta non ha la capacità di rifiutarci non è costantemente aperto il problema è che quando noi non meritiamo questo tipo di consapevolezza questo tipo di contatto perché non abbiamo sviluppato prima di tutto una forma pura e poi una coscienza spirituale perché Dio sai non puoi parlare con Dio come parli a un essere umano perché apri la bocca e l'altro sente cioè devi creare un livello Dio è una coscienza viva assolutamente viva ma se tu non hai questo livello di coscienza spirituale dove conversi a questo livello cioè non lo senti Lui potrebbe parlarti ma tu non lo senti Sì sì Io faccio sempre l'esempio comunque quello che a me viene sempre in mente è come quando una volta avevamo le radio che dovevi girare la manopola finché non arrivavi a prendere la frequenza e finché non prendevi la frequenza sentivi soltanto questi rumori tutti questi rumori delle non frequenze e quindi il girare la manopola è proprio quella che poi a un certo punto per ognuno di noi c'è la propria frequenza e quindi il contatto e la possibilità di comunicazione insomma che per ognuno di noi ha una frequenza specifica e unica perché è proprio un collegamento diretto insomma unico e assoluto ma non bisogna dimenticare che Dio è un'anima io sono un'anima e non so quante ore al giorno andiamo veramente in giro pensando io sono un'anima e comportandosi in quanto tale ecco il problema cioè se io riesco a mantenere nella mia mente per esempio l'identificazione che mi faccio la mia identità se io mi creo e capisco qual è la mia identità spirituale piuttosto che anagrafica potrò avere molto più facilità ad avere contatto cioè per esempio potrei vedermi piuttosto che una persona di sesso femminile alto 1,72 bionda con i capelli bianchi ormai eccetera eccetera di una certa età che sono tutte cose materiali se mi vedevo piuttosto con un'anima e lì di nuovo siamo molto molto diversi ognuno di noi ha una personalità spirituale molto molto particolare e personale quindi non è sgradevole vedere che io posso essere una persona diciamo disponibile una persona generosa una persona vedermi in quella chiave di lettura dove mi vedo in quanto anima perché il corpo segue quello che io faccio ma se l'anima è generosa io do do la mia energia per aiutare gli altri per esempio e questo non è niente di personale insomma è proprio viene da me è come un'energia che si è un'energia stimolabile quello sì noi siamo molto più stimolabili in quanto anima nonché in quanto corpo io per esempio ho 83 anni non posso stimolare un gracchia a livello fisico questo è molto chiaro a livello pensiero posso ovviamente perché l'anima non ha età l'anima è eterna quindi non è né vecchia né giovane ha molto più maturità quando ha molte esperienze più ha vissuto più è matura però posso dare a livello spirituale a livello pensiero una enorme quantità di energie quando il mio corpo non riesce a muoversi sono due energie totalmente diverse chiaro chiarissimo cosa è meglio Wendy avere fiducia in Dio quindi nel momento in cui capisci e riesci ad avere una relazione avere fiducia o avere fede o avere tutte e due o nessuno delle due queste due parole che in genere viene utilizzate che poi sono dei concetti il concetto della fiducia o il concetto della fede vengono molto utilizzati nei confronti di Dio ma quale è secondo te che gli appartiene di più? beh io penso che se tu hai hai fede puoi avere fiducia cioè nel senso che Dio l'energia che ti serve te lo dà volontieri ma ovviamente sarà un'energia piuttosto che farti arrivare l'oggetto che tu da quale hai bisogno ti dà il coraggio che è un'energia trasferibile dalla parte di Dio a te ti darà il coraggio di andare a prendere o a cercare quella cosa lì che ti serve ma non è non è che va a cercare quello che ti serve per darti cioè non crea una relazione di dipendenza e secondo me avere fiducia potrebbe significare ma tu hai fiducia che intanto non ho bisogno di fare nulla perché se ne occupa Dio ma questo è sbagliato e ecco perché la gente è molto delusa perché si aspettano chissà che poi non arriva certo che non arriva cioè bisogna ecco bisogna capire cosa è Dio cioè aspettarsi da Dio qualche cosa che non è da Lui che non è in grado di fare perché non è la sua competenza della sua competenza e essere molto molto frustrata se non ti arriva chiaramente quindi ecco e quali sono allora i suoi poteri quali sono i poteri sanscara di Dio quali sono le sue capacità visto che noi abbiamo sempre avuto tanta confusione nei confronti di Dio appunto l'abbiamo messo dappertutto abbiamo ancora adesso sta tornando tantissimo io non me lo ricordavo così anni anni fa il fatto che ci stia ci sia tanto in giro per il web YouTube o cose del genere il fatto che il concetto di questa onnipresenza di Dio no e quali sono i suoi poteri allora quali sono le cose che Lui può fare non fa un livello materiale e noi vediamo tutto in quanto corpi a un livello materiale e questa è la fregatura come dicevo prima Lui non ti propone l'oggetto ma ti dà l'energia la diciamo la la determinazione il coraggio la volontà di mettere in pratica quello che è necessario pur di ottenere quello che cerchi quindi c'è questo sbaglio nel pensare che Lui soddisfa i bisogni materiali ma non lo fa è un po' come chiedere a un elefante di salire a un albero cioè non è dall'elefante è la scimmia che sale all'albero tra altri ma l'elefante no non li verrebbe manco in mente chiederglielo e aspettarsi per anni che effettivamente questo elefante sale all'albero è una fregatura e a quel punto perdi fiducia perdi fede perdi contatto perdi tutto perché Dio teoricamente è benevolente misericordioso e molto generoso come mai non mi ascolta ma se gli chiedi le cose sbagliate ecco quello che succede insomma c'è una secondo me una grande mancanza di informazioni su chi è Dio ma lì diciamo che Dio si esprime molto bene per conto suo te lo dice tranquillamente chi è ma te lo dice attraverso la diciamo dei medium che parlano dove Dio parla allora questo ovviamente in un ambito cattolico è difficile da spiegare forse ma gli effetti sono molto chiari è chiaro sì sì infatti questo questo zoom per quanto ci può per quanto ci riguarda per quello che voglio che è l'intento è proprio cercare di spiegare appunto Dio chi è cosa fa appunto quali sono le sue capacità di certo ecco non non gli si può chiedere se è un elefante di salire sull'albero perché rimaniamo sempre delusi e e poi dopo praticamente pur di come posso dire rattoppare in qualche modo questa delusione lo mettiamo dappertutto e quindi di conseguenza facciamo ancora più confusione e creiamo ancora più problemi ok l'ultima domanda io posso avere una relazione vera sincera completa e duratura con Dio sempre posso potrei sì posso perché Dio non si non si sostrae a queste cose assolutamente dal momento che io mi metto al suo livello cioè rimango molto chiara che sono un'anima e mi comporto in quanto tale e sono e pratico tutto quello che è una un comportamento idoneo alla alla perfezione alla purezza cioè lì non c'è problema cioè se sono le nostre i nostri difetti le nostre mancanze i vizi per esempio e più noi ci concentrammo su tutto quello che è materiale che sia il corpo umano stesso e l'attrazione che questo può comportare o qualsiasi altra attrazione che provoca un senso di volere di possesso di di stimolo a andare a cercare per esempio il denaro eccetera cioè tutto questo ci allontana tutto quello che mi avvicina a Dio è quello che mi alleggerisce che fa sì che tutto quello che è materiale tutto quello che è corporeo ci convivo volontieri perché c'è un corpo quindi per forza bisogna conoscere le regole fisiche però non è quello la mia coscienza io vivo in quanto anima dentro un corpo e privilegio ovviamente tutto quello che è il bisogno dell'anima piuttosto che vivere dentro al corpo in quanto corpo e privilegiare quello che vuole il corpo è una dinamica molto diversa e ovviamente che chiede una certa attenzione quello senza dubbio credo che privilegiare tutto quello che ha a che fare solo col corpo con la materia intanto è estremamente limitante e poi comunque è anche estremamente deludente perché non ti porta mai a una vera e completa realizzazione come essere umano anche se essere umano è un corpo ma comunque in qualsiasi caso c'ha qualcosa di più va oltre a essere soltanto un corpo e quindi cerchi 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 tutti dai tutti i vizi tutto quello che possono essere le cose materiali ma non rimani mai contento no no è vero non rimani mai non arrivi mai a una conclusione tale da essere completamente soddisfatto completamente anche te stesso perché ti mancherà sempre una parte fondamentale insomma che è quella che poi penso che sia la ricerca dell'essere umano sempre da sempre noi ci limitiamo enormemente con questa consapevolezza materiale ci limitiamo all'esperienza di una vita perché la memoria il ricordo ci offre solo quello e invece ci sono delle relazioni che noi proseguiamo a volte se abbiamo una certa formazione spirituale lo possiamo riconoscere ce ne rendiamo conto ci sono delle persone che noi rincontriamo e con chi il discorso di vita cioè lo scambio non finisce solo con una vita ci riprendiamo la la conversazione tra virgolette in un'altra vita sotto altre forme e io trovo questo molto molto stimolante cioè perché vuol dire che una persona che tu ami veramente non lo puoi perdere perché lo rincontrerai sempre lo rincontrerai sempre cioè è un po' come un magnetismo la calamita attira e queste anime se hanno a che fare l'uno con l'altro si ritroveranno e questo io lo trovo stupendo come realizzazione cioè questa idea che perdi non c'è non esiste se hai ancora qualche cosa da dire tra virgolette da vivere con qualcuno e ogni tanto ti chiedi ma come mai questa persona mi viene in mente ma forse c'è un discorso che non è stato finito e di sicuro se c'è qualche cosa da finire poi ci ritroveremo certo io lo trovo entusiasmante penso che sia una cosa proprio entusiasmante anche se non c'è qualcosa che si è concluso ma soltanto il fatto che come hai detto tu un magnetismo che è fatto probabilmente da un amore puro profondo come può essere tra sorelle come può essere tra fratelli questo ti porta comunque a rincontrarli sempre forme diverse o uomini o donne che siano ma li rincontri sempre e poi ci sono delle cose che noi facciamo che ci attirano a vicenda insomma un cammino spirit diciamo un cammino artistico una cosa del genere ci sono degli elementi che a me mi è successo di lavorare con qualcuno o delle persone e io capivo esattamente quello che stavano facendo e questo non viene da una vita sola ah sicuro c'era già un vissuto che faceva sì che ero a corrente di certe cose di un altro momento e di un'altra epoca chiaro e vivere con questo tipo di coscienza è molto entusiasmante molto molto ti dà veramente qualcosa che va al di là della vita terrena sì Muriel scrive certo c'è una sorta di ascesi nell'arte Muriel sei la francese che sa meglio l'italiano di un italiano veramente complimenti benissimo allora volete avete da scrivere qualcosa volete ancora chiedere qualcosa a Wendy altrimenti io direi che è proprio stato molto bello penso possa essere stato molto utile interessante un po' per tutti e che possa essere stato anche qualcosa che non solo vi faccia riflettere ma vi faccia anche avvicinare sempre di più al percorso della Brama Kumaris al percorso Bramino al cercare di conoscere anche dei particolari che abbiamo detto stasera di che cosa sono i murli o che cosa si intende per Dio quali sono appunto i suoi poteri i suoi sanskaras che cosa sono i sanskaras o cose del genere spesano che abbia creato anche interesse sotto questo aspetto per chi non non è proprio completamente e profondamente in un percorso Bramino come possiamo essere Wendy da 40 anni io da meno di 7 circa 7 questi li troviamo online volendo ascoltarli queste i 7 queste 7 registrazioni questi 7 zoom sì questo è l'ultimo di questi 7 sì questi qua li trovate tutti gli altri 6 sono già su youtube e questo verrà messo adesso tra domani e dopodomani forse bisogna dire prima di concludere che Dio essendo il purificatore il creatore insomma in quel senso lì è diciamo tutto quello che è questa energia dalla quale noi abbiamo bisogno pur di vivere per esempio pace o amore per esempio Dio è un oceano di questo quindi una relazione con Dio ti mette in una in una situazione dove tu puoi incamerare un'enorme quantità di pace di amore o di gioia per esempio che sono gli elementi che ti servono per creare la tua personalità certo e l'energia basilare e quindi noi non possiamo creare una vertù per esempio come qualche cosa tipo la tolleranza o la pazienza se non siamo in pace è estremamente difficile certo la pazienza è un abbinamento di pace e di amore certo e poi se ci aggiungiamo un po' di gioia ci arriva l'entusiasmo cioè noi ci creiamo con queste energie basilari quindi da dove vengono cioè al supermercato o alle troie l'unica l'unico fonte di queste energie basilari a livello spirituale al libero dell'anima e Dio e poi ci ci mettiamo in contatto grazie a questa possibilità prendiamo contatto con chi siamo veramente esatto e questo penso che poi ha ha la possibilità proprio come un nastro che si srotola a far venire fuori tutto quello che è proprio ciò che siamo veramente Teresa si li trovi su youtube basta basta che metti sentirsi bene con il lavoro sentirsi bene con i soldi sentirsi bene con se stessi sentirsi bene con Dio eccetera trovi tutto quindi che dirti come sempre un grazie grandissimo perché veramente è sempre interessantissimo fare queste cose bellissimo incontro molto interessante l'aspetto secondo cui Dio ci fornisce le qualità le virtù necessarie per agire lui non può agire al posto nostro è già proprio così proprio così quindi grazie a tutti veramente grazie di cuore per essere stati qui con noi grazie Wendy come sempre e quindi con questo si conclude questi sette appuntamenti e poi chissà che a ottobre o novembre comincia qualcos'altro che faremo poi vi faremo sapere insomma che se mi invento qualcos'altro vi farò poi sapere che cosa facciamo ok quindi fermo la registrazione